eccoci eccoci amici di oggi buongiorno a tutti buon pomeriggio a tutti ben ritrovati in questa nostra live sui non faramperos do anche un saluto a marco che vedo già collegato ciao marco ciao a te tutto bene tutto bene tutto bene allora siamo pronti se andrò di dare un poche che dati usciranno sedati di agosto ricordiamolo quindi i dati che vengono rilasciati oggi che è settembre sono attirati poi al mese di agosto e quindi saranno dei dati interessanti per i mercati anche dal punto di vista macroeconomico anche perché da questi poi potrebbe emergere un pochino quella che ormai l'abbiamo visto con paul abbiamo avuto la conferenza di jackson hall no quindi paul è stato anche abbastanza chiaro nelle parole e lasciando comunque un uno specchio ancora di possiamo dire di pensieri no quindi nessuna certezza in realtà per quanto riguarda il tapering e rialzo i tassi interessi ha detto che probabilmente ci potrebbe essere e sarebbe opportuno un tapering da fine anno da fine anno non vuol dire comunque non rialzo ai tassi di interesse a breve periodo questo ha fatto bene i mercati perché al fine della fiera i mercati sono interessati ai tassi di interesse più che ad altre cose e di conseguenza il mercato ha reagito molto bene vediamo massimi storici su s&p 500 su nasdaq parliamo di mercati americani chiaramente e se andiamoci a mettere anche a vedere magari adesso proprio un grafico ecco qua sul nasdaq possiamo vedere come siamo in una fase abbastanza di lateralizzazione quindi siamo in una fase laterale perché il mercato sta a mio avviso in lateralità intendo in questi ultimi 3 4 giorni perché in questi ultimi 3 4 giorni il mercato sta cercando di capire se effettivamente succederà qualcosa oppure no praticamente scusate un attimo che mi è arrivato ok fatemi sapere solo se mi sentite per favore ragazzi che non ho la certezza quindi io io ti sento ma a volte spara troppo forte ok questo è un ok allora fatemi solo sapere ora dovrebbe andare un po meglio forse sì ok fatemi solo sapere se si sente anche a livello di live così capiamo se perché non ho capito se avete sentito tutto solo una parte avete sentito tutto ok grazie delle conferme niente quindi stavo dicendo sostanzialmente che questi dati poi ci serviranno dati che hanno portato il mercato essere laterale nei giorni precedenti e adesso siamo un po' in attesa di capire se questi dati sui payrolls quindi sull'occupazione anche quindi occhi puntati sull'occupazione saranno dei dati negativi positivi o in linea con le aspettative perché in base a questo poi andremo effettivamente a vedere i movimenti sul mercato in base proprio alle aspettative che si avranno sul tapering e sui tassi di interesse tanto saluto a tutti salvatore nicola pier carlo uno che ti saluta dice ciao marco detto in parole un po più milanesi chi è non lo so facebook user quindi non ti so dire chi sia però rimaniamo ancora in attesa ricordiamo che tra sette minuti vengono rilasciati i dati tu hai qualcosa da aggiungere da vedere ma di solito i dati come dicevi te sono sono abbastanza peggiori il dato di settembre di solito è sempre peggiore delle attese quindi statisticamente però poi vediamo e anche un attimo vedere se effettivamente sarà così perché comunque siamo su gli ultimi i payrolls sono stati dei payrolls non tanto positivi e se non ricordo male infatti adesso vedremo un attimo come abbiamo un attimo le aspettative quindi quanto si aspetta il mercato il mercato si sta aspettando in questo momento delle buste paga a 750.000 quindi inferiori in buste paga del settore non agricolo quindi non farm inferiore al mese precedente un tasso di disoccupazione è anche lui inferiore comunque al mese precedente l'attuale era stato positivo quindi quello del mese precedente era stato positivo 5 4 quindi ci si aspetta dei dati sulla disoccupazione migliorativi in diminuzione quindi il tasso di disoccupazione vedremo vedremo un attimo che cosa ci dice il mercato quello che possiamo dire è sostanzialmente che rimaniamo in un trend completamente rialzista lo diciamo da tempo ormai rimaniamo in un mercato che continua a comprare una volta che tende a fare i minimi quindi c'è un buy the dip completamente perenne praticamente e adesso siamo effettivamente long vedremo non long in 3d questo non è un consiglio andare long di qua di là semplicemente è che siamo razzisti perché comunque l'evidenza è che il mercato è un mercato rialzo non c'è nulla da negare inutile andare short per pentare il colpo grosso perché non ha senso quindi cerchiamo di seguirlo ed ecco che va mi confermi che non senti più picchi di volume? mi senti normale? no ci sono ci sono ci sono ci sono ancora picchi di volume allora devo sistemare questo nuovo microfono cercare di capire come farlo funzionare forse ce l'hai troppo vicino no in teoria devi parlare più piano proviamo così non so però è un tanto forte allora dovrebbe forse vediamo se abbassiamo qua potrebbe migliorare un pochino forse allora per carlo dice i dati della produttività non agricola quindi gli adp erano lì sotto delle attese ieri sì erano lì sotto delle attese però non è una cosa per forza correlata con i dati di oggi quindi possono essere anche cose scorrelate tra di loro fatemi voi sapere ragazzi se sentite bene o male il mio audio solo perché sono proprio con questo nuovo tipo di microfono qua voglio capire se funziona bene o funziona male comunque mancano 4 minuti se vuoi aggiungere qualcosa tu Marco su di... no sarà interessante secondo me eventuali movimenti sull'euro dollaro sicuramente che siamo vicini a delle resistenze interessanti e secondo me anche il gold che da questo dato secondo me qualcosa muoverà quindi Roberto siamo 18,70 e sul gold siamo 1.800, 1.800, 1.800, quindi siamo tutti in fase gold siamo in un livello in cui praticamente ha rimangiato tutta la discesa che aveva fatto a inizio agosto con quel flash crash che c'è stato subito riassorbito poi dal mercato quindi adesso siamo a quei livelli di inizio agosto di un mese fa effettivamente e siamo vicini a delle resistenze di euro dollaro cioè siamo tutto un po' sui supporti del dollaro adesso quindi vediamo se ci sarà un rimbalzo dai supporti oppure delle rotture che potrebbero essere poi significative quindi un indebolimento del dollaro magari con un dato peggio anche se poi a volte i dati sono peggiori e i mercati vanno da un'altra parte lo stesso quindi non è che possiamo fare affidamento solo al dato però sarà sicuramente una questione macro importante uno di questi dati è poi tutto quello che arriverà fino a metà settembre poi con il nuovo incontro della Fed sì 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 ricordiamo che generalmente dei tassi negativi quindi anzi non dei tassi dei dati negativi per cui i payroll sono considerati negativi quindi ribassisti per le borse e per il dollaro e dei dati positivi invece no però in questa situazione di mercato in questa situazione economica le cose potrebbero cambiare perché il mercato si proprio si sta aspettando dei segnali riguardanti proprio il tapering e i tassi di interesse quindi non escludiamo neanche che questa cosa dei dati possa essere invertita quindi non possiamo saperlo cosa che sicuramente consigliamo come consigliamo ogni volta che soprattutto per la parte trading poi anche la parte investing però lì per l'anno di lungo periodo quindi i dati ci interessa relativamente a parte trading come noi consigliamo spesso in queste giornate aspettare a fare dei trade perché comunque abbiamo visto che il mercato è innegabile no? cioè è laterale da quattro giorni quindi andare a operare in un mercato che attende i dati che è laterale da quattro giorni mi sembra anche un po' una cosa senza senso sinceramente magari pomeriggio si accende un po' di volatilità e se non dovesse accendersi io considererei la giornata come una giornata di studio per il trading per l'investimento invece lo considero un semplicemente un rumore che si potrà darci un'indicazione di dove si andrà nel panorama macro però tendenzialmente non mi aspetto grandi cose per gli investimenti per l'investitore soprattutto dai manca fammi capire quanto manca qualche secondo vediamo un attimo mettiamoci un po' un grafico piccolo per giusto capire i movimenti che farà se ci possono interessare oppure no vedete già da questa notte nasdaq per esempio completamente laterale vediamo anche il dato che uscirà subito il nasdaq subito che botta sì allora vediamo un attimo i dati che sono usciti dato positivo buste paga bruttissime 35.000 contro 750.000 classico guarda ogni anno così quindi che cosa vuol dire questo vuol dire che i dati sono negativi come vedete il mercato non sta reagendo come le aspettative cioè generalmente invece il bella il tasso di disoccupazione è stato invariato quindi 5.2 per cento nulla di di che quindi in realtà per questo per i ros che magari ha sentito prima i tassi sui euro dollaro 1.19 eh sì ma resistenza lì eh vediamo cosa fa se buca se buca spazio fino a 19.5 prima 19.20 poi 19.5 vediamo l'SMP500 cosa sta facendo SMP500 fatto botta su poi giù allora non sono dati secondo me allora le buste paga sono negative la disoccupazione è stata invariata e quindi dati mix dai sì niente di allora non sono belli sicuramente perché magari ci si aspettava disastroso questo qua se sei dentro per sbaglio ti bruci tutto eh non devi essere dentro per sbaglio Tommy è questa anche comunque è sempre veramente nell'aria ecco il dato di settembre sempre così me lo ricordo è una vita attenzione anche al Gold cosa fa il Gold? Gold ha preso una bella botta su eh prova a bucare anche qui se tutto resistenza è qui eh eh però con quel dato lì magari una buona accelerazione possiamo anche aspettarci vediamo a un dopo assolutamente adesso bisognerebbe far sbollire un po' giù l'SMP e invece su il Nasdaq quindi c'è una prevalenza di positività per quanto riguarda il tecnologico rispetto a quanto riguarda il value in questo momento il value poi in realtà eh il value per dire perché l'SMP500 ha dentro anche i titoli del Nasdaq eh quindi però è più è più pesato anche sul value e quindi questo in questo momento c'è cosa che ci dice ma nel breve periodo non ci può dire nulla ci può però far pensare che magari eh i tassi di interesse non fanno così tanto paura allora il tech continua ha la sua salita a rialzo ok ho il gold l'euro dollaro 1.19 intanto il gold siamo 8.28 chi avesse dei target sul gold le prime aree ovviamente sono queste qua quindi 8.30 siamo direi che ci siamo quasi ormai no i primi i primi livelli di gold sì tutta questa area qua è un area importante 1.830 poi 1.845 allora fammi vedere se leggo qualcosa di interessante ok quindi in realtà i dati di disoccupazione sono migliori delle aspettative cioè non sono in linea con le aspettative ma migliori rispetto al mese precedente quindi si sta andando in realtà in una situazione in cui si sta diminuendo piano piano la disoccupazione e non è un male l'unica cosa è che abbiamo le buste paga che sono non sono così positive ecco tutto lì però come diceva Marco sono dati di agosto no? sì ma sì sì secondo me poi il mercato pian piano lo digerisce sa che è già sanno già che è una notizia secondo me scontata infatti guarda qua la prima resistenza del gold l'830 l'ha già un po' sentita e se ne vederci l'ha sentita anche l'eurodono l'ha sentita ok vabbè niente niente di eccezionale l'unica cosa qui avrà bruciato tanti conti di qualche short di nuovo come si diverte il mercato di bruciare di short però ci divertiamo anche noi a vedere di bruciare perché se vai short vuol dire che non hai capito una mazza di trading e quindi mi spiace però è così il 70% sono short ancora sul Nasdaq quindi altre belle mazzate per adesso e poi magari scenderà però per adesso sono mazzate e niente quindi questi sono un po' sono un po' i dati quindi sotto le aspettative perus disoccupazione in linea nessuna grossa novità questo può portare chiaramente il Nasdaq a salire il gold anche perché chiaramente il gold perché sale perché intanto è un bene rifugio quindi e soprattutto perché fa anche un po' da aging contro l'inflazione quindi se continueranno a tenere tassi bassi il tapering non lo riducono chiaramente questo porta salutazione del dollaro quindi inflazione e quindi il gold può essere un pochino un buon caposaldo per perarsi da questo tipo di situazione siamo comunque sempre diciamo dai dati 20 punti di Nasdaq quindi siamo veramente fermi sì Tommy ci chiede se in settimana dobbiamo aspettarci una continuazione della situazione attuale non ho capito situazione attuale nel senso di rialzo dei mercati beh innanzitutto settimana prossima lunedì ci sarà poco interesse che c'è festa americana sì giusto c'è il labor day giusto esatto quindi credo che l'interesse sia pari a zero lunedì poi ci saranno le scadenze tra le settimane 17 ci sarà il giorno delle tre streghe quindi scadenze importanti bello euro dollaro dalla resistenza mollato un pochino vediamo se se ricarica e ci riprova guarda i movimenti dell'euro dollaro e guarda il movimento del gold praticamente è lo stesso sì il movimento del dollaro l'euro non conta una mazza quindi l'euro è il dollaro che si muove non è l'euro che si muove sempre così esatto sì lunedì ferie Tommy assolutamente lunedì ci dedichiamo ad altro come oggi in realtà per noi è un weekend lungo perché facciamo venerdì sabato domenica lunedì siccome oggi adesso magari qualche operazione sul Nasda che ci esce anche fuori però rischi di andare a fare dei movimenti rischi di andare a fare dei movimenti erratici invece Matte volevo dire agli amici del forex chi fa forex che mercoledì no quando è che sono andato alle fonti mercoledì penso di sì sì mercoledì parlavo di un bel long di Australia dollaro sta volando Australia dollaro ecco qua ottimo ricordiamo anche che settimana prossima abbiamo il il webinar con i G quindi il 7 per chi vuole imparare a fare trading teniamo una serie di corsi quindi una serie di lezioni un singolo corso formato da una serie di lezioni gratuite il 7 il 14 e il 21 di settembre alle ore 21 quindi se partecipate anche i nostri amici corsisti possono sempre fare un ripasso comunque trovare qualche spunto utile se invece siete un po' a zero ci seguite da un po' volete un attimo capire come lavoriamo noi andiamo un po' a spiegare come noi vediamo i mercati innanzitutto andiamo un attimo a capire come funzionano i grafici come leggerli che cos'è il trading cosa sono gli strumenti che andiamo a tradare e poi andremo a vedere anche qualche cosa di operatività vi metto il link nei commenti dammelo pure lo metti qua su restream poi farò direttamente qua intanto il treasury 10 anni il rendimento del treasury sale e bitcoin in teoria se si muove come l'oro se viene considerato come l'oro digitale dovrebbe salire anche lui effettivamente sta andando a bucare quell'area di 50.000 molto importante anzi la sta bucando ci siamo quasi sembra intenzionato a bucare per andare ha fatto i massimi da quando è iniziato il crollo il 17 maggio ha fatto nuovi massimi no questa è la private chat Marco devi andarlo sguagliato ecco qua ha fatto nuovi massimi bitcoin vediamo anche ethereum come si sta comportando anche ethereum 3956 rimane comunque in quelle aree di mattina di oggi però direi che anche per quando guarda le cripto soprattutto dei ragazzi delle cripto il nostro team cripto si sta comportando molto bene hanno tenuto duro anche questo ribasso hanno comprato sotto e adesso stanno solamente gioiendo dei loro guadagni immagino ecco qua a strada dollar c'è una bella resistenza perché tu come ci insegni sul forex poi le medie sono sempre importanti soprattutto nel daily la 100 la 200 siamo arrivati praticamente al target e adesso sta mollando anche l'euro dollar quindi magari un po' di rallentamento ci sta perché sono delle belle resistenze queste qua sul forex diciamo attenzione al Nasdaq saremo contenti di short adesso prima hanno bruciato il conto adesso sono contenti quindi ecco perché diciamo scusa Marco poi ti rilascio ecco perché diciamo non operati in questi giorni cioè tutto su poi tutto giù insomma forse è meglio lasciare sfogare no? sì ma in queste situazioni operi con uno stop di 5-10 punti strettissimo perché magari trovi un livello una resistenza interessante se no è meglio stare fermi però dicevo occhio qua perché il forex è quando si cerca di attaccare la prima volta magari un livello cruciale molto spesso si viene un po' sotto quindi ci sta che l'euro dollaro abbia mollato perché questa è proprio l'area di 1,19 fino a 1,1980 è tutta un'area di resistenze perché se si uscisse poi con una bella candela daily al di sopra di tutta quest'area allora le cose per euro dollaro potrebbero cambiare se no lentamente l'euro dollaro scivola a ribasso perché comunque è ancora un po' sotto pressione quindi primo arrivo interessante vediamo per ora fallito ma come capita praticamente sempre sul forex vedremo se ci riprova più tardi che magari anche qui chi ha fatto il nostro corso e si trada al forex sa che comunque le medie daily sono importanti poi qua c'è un'altra situazione di mercato interessante quindi non dico andare per forza short ma magari chiudersi long poi anche un short sul daily multi day per carità si poteva anche tentare sull'euro dollaro però non ripeto un weekend lungo multi day così non lo so sinceramente esatto andiamoci il DAX il DAX l'abbiamo un potere lasciato hai tirato giù un urlo io? sì ma in realtà non ho neanche urlato mi sa che questo microfono che sta spaccatuto è un po' svalvolato adesso fammi controllare il DAX allora il DAX se vuoi lo guardo ma è sempre lì da stamattina non anche a livello di range di punti giornalieri siamo veramente minimi proprio non si vedevano da parecchio così pochi punti in un giorno come range giornaliero quindi mi aspetto da un momento all'altro un bel movimento se non sarà oggi ma settimana prossima credo che ci sarà un po' la sveglia qua sul DAX o su o giù per il momento ancora diciamo in una fase di accumulo anche se sia un po' indebolita questa fase di accumulo però rimane assolutamente ancora un trend rialzista un ottimo mi aspetto casino però perché quando poi stringe così tanto la volatilità al DAX poi da un momento all'altro ci sarà un bel movimento sì DAX comunque rimane laterale segue la 25 quindi per adesso niente di che voglio guardarmi l'S&P 500 anche lui stiamo su future 1-0 19% e sul NASDAQ un meno 0-08% quindi anche lì niente di 10 movimenti molto nervosi di mercato che servono solamente a bruciarsi i conti sostanzialmente va bene dai abbiamo visto questi payroll insieme vediamo se c'è qualche domanda intanto Tom mi dice che mi sente bene senza salti quindi Marco mi spiace ma i salti li senti solo tu? no ma non sono salti ci sono accelerazioni di voce di volume dici? sì di volume ok e si sente come che arriva una bomba capito? una bomba è forte ho capito adesso non so il motivo sono sincero abbiamo preso questo nuovo microfono insieme la colpa non è mia anche tua che hai scelto anche te certo sono curioso di capire comunque come si muovono in apertura se lo riportano su se lo riportano giù il fatto sta che rimane sempre laterale cioè va su va giù quindi rimane sempre laterale si li sento anch'io allora si Piercaro dice che anche lui li sente questi sbalzi quindi mi mi spiace non voglio spaccare le orecchie insomma non sono io che urlo la voce bassa dai sarà interessante vedere come apre l'America pomeriggio magari anche se venerdì un po' di volatilità ci sarà anche se guardando comunque negli anni se ti ricordi i payrolls muovevano molto di più cioè io mi ricordo robe da 100 pips anche di euro dollaro ha iniziato a muovere poco forse nei due anni dopo un paio d'anni proprio lento anche di più forse già con con Trump quando ha iniziato Trump sai cosa il mercato ormai non gli ne fregava più niente dei dati su occupazione disoccupazione e ne fregava solamente dei tweet di Trump quindi si è arrivato sui tweet di Trump nel mercato è vero è vero infatti è calata proprio ma forse è calato anche un po' l'interesse anche se questo dato secondo me visto che siamo un po' diciamo alle strette con le politiche monetarie perché comunque si parlava di tapering poi proprio per quello che dicevo che questi dati saranno importanti per il motivo che appunto non riguardano solamente dei dati così a caso ma sono dei dati che possono trascinare le conseguenze a livello di politica monetaria nella quale siamo sui equilibri molto molto sottili quindi per questo che potrebbe effettivamente succedere qualcosa io mi vedo per Carlo mi fa piacere adesso stavo pensando perché ci segue sempre nelle nostre dirette quindi fa un enorme piacere un grande per Carlo eccolo qua mettiamo un bel risalto li sento anch'io dei miei spicchi invece Tom mi dice Nasdaq non si è mosso per niente secondo me cioè si facciamo un range di 100 punti tra long e short però insomma non è un enorme movimento come come dici tu Tom non è un movimento enorme è sempre in in fascia di prezzo e soprattutto in un trading range laterale eccolo qua vedete comunque completamente laterale quindi quindi allora io direi che Marco adesso io ho già sconsigliato di operare oggi come sconsigliamo ogni volta che ci sono soprattutto i più neofiti poi chi è un pochino più bravo sicuramente con i payrolls può tradare non è che dico non si trada mai con i payrolls no se uno è bravo riesce a gestire l'operatività in un mercato che può essere o completamente lotterale o completamente rialzista o completamente ribassista o che ti fa gli schizzi completamente su e giù allora va bene però se non sai gestire determinate situazioni non farli payrolls cioè prendi la giornata libera che indicatori utilizzate Ross viene a scoprirlo nelle nostre chat e nel nostro percorso trading winner qui in alto design degli indicatori questi qua sono alcuni che vedi quindi le medie mobili esponenziali 25 periodi a 100 a 200 per lo scalping soprattutto a 25 periodi esponenziali e poi andiamo a usare altri indicatori quindi abbiamo una strategia che sfrutta sia intraday che multiday la volatilità del mercato la direzionalità di prezzo quindi tendiamo sempre a tradare quello che è poi il pro trend del mercato ecco noi andiamo sempre verso il momentum cioè se il mercato ci dice long non andiamo a short quindi per le tante persone che hanno iniziato a shortare dai massimi storici del Nasdaq del 6 di agosto lì è un po' un riposo in pace perché il conto al 100% se sei un po' a leva l'hai fumato perché andare poi con 1-2 euro al punto insomma 500 punti se hai già la maggior parte delle persone puoi tradare con 1-2 mila euro sul conto ma giustamente perché deve imparare il problema è che chi deve imparare che tratta con così poco e si mette poi a fare le martingale arriva su a far 5 che almeno è neanche più possibile far 5 euro appunto perché l'esma l'ha vietato però ci sono le persone che si credono furbe e vogliono una leva a 400 martingale di qua di là fu il conto 100% non usate non usate il RSI o Mac o Mac CD come si chiama non lo so il Mac il Mac ok io non lo uso e lo sconsiglio perché tradare l'ipercomprato l'ipervenduto oscillatori secondo me non è più un mercato come poteva essere 5-6 anni fa dove la lateralità era molto più presente adesso viviamo più di mercati ultra e monodirezionali a rialzo o a ribasso dipende o da sul forex o sugli indici dipende di cosa stiamo parlando quindi secondo me quelle strategie lì alla lunga ti fanno fumare solo il conto il mio non sapere neanche come si chiama ti fa capire quanto può contare quell'indicatore lì comunque tanto famoso il mac quindi insomma ci sono persone che lo usano ci fanno delle strategie sopra però ognuno deve utilizzare una propria strategia cioè se tu ti trovi bene utilizzando anche il mac dell'rst va bene non possono essere usati in modo singolo anche perché soprattutto questi tipi di indicatori e di oscillatori ti fanno andare a cercare il contro trend perché se tu compri lì per comprare se tu vendi sull'ipercomprato compri sull'ipervenduto è chiaro che vai contro trend perché se il mercato sale tanto ipercomprato tu cerchi di vendere quindi sei completamente contro tutti quindi sei il pesce più piccolo che nuota contro corrente contro una massa di squali quindi diventa anche poi un po' pericoloso la media ti può servire per capire la direzionalità del mercato in maniera un pochino più chiara poi non ti serve più di tanto neanche la media cioè è un abbellimento grafico poi la puoi usare sul forex la puoi anche usare tipo hai visto la 100-200 noi lo spieghiamo anche nel corso come utilizzarle per il multiday non bastano quelle va capito la cosa che voglio far capire e che faremo capire soprattutto mercoledì e con la serie di webinar che faremo con i G che il mercato non è fatto di indicatori il mercato è fatto da compratori e da venditori quindi non è fatto da indicatori l'indicatore ti può dare un'indicazione capito è un indicatore non ti dice che cosa fare per capire che cosa fare tu devi andare a capire come si muove il mercato quindi perché viene comprato lì perché viene venduto lì cos'è che succede a quel livello cos'è che succede a quel prezzo se tu non capisci queste cose qui non capirai mai nulla del trading nei mercati finanziari di come si muovono nel trading soprattutto poi l'investimento ripeto un mondo a parte secondo me la cosa fondamentale è lo studio proprio delle candele di come si comportano di come si muovono di come aprono come chiudono queste cose qua sono fondamentali se uno può tradare anche il grafico pulito non ha bisogno neanche degli indicatori ti arrivo a dire poi che l'indicatore ti dà una mano questo è innegabile ma assolutamente il primo esercizio per imparare a far trading è capire e leggere i mercati senza niente allora lì quando tu qualsiasi grafico apri riesci ad avere un'indicazione di trend senza l'ausilio di niente allora lì puoi definirti una persona che capisce di trading e capisce soprattutto le analisi grafica se no il resto secondo me è tanta fuffa no no è tanta fuffa sicuramente la cosa che più è utile oltre all'analisi grafica è anche l'analisi dei livelli quindi la liquidità quindi dove il mercato cerca liquidità e vuole trovare liquidità e poi anche capire il mercato delle opzioni comunque è importante perché le opzioni tieni presente che muovono loro in questo momento in cui siamo alle livelli di liquidità nei mercati più alti che ci possiamo ricordare nei mercati moderni livelli di leva finanziaria più alti che ci possiamo ricordare nei mercati moderni e quindi la leva vuol dire che viene utilizzata con le opzioni e i market maker che vendono le opzioni praticamente ti fanno poi anche capitare dei movimenti come questi qua quindi devi anche capire i livelli in cui si posiziona la liquidità delle opzioni un libro che spiega bene questi concetti non esiste allora io non ne conosco sinceramente per capire le opzioni sicuramente quello adesso ci sono si può cercare qualcosa su black and shawl quindi come si prezzano le opzioni come funzionano i market maker però per andare a fare trading poi di libri non ce n'è ma perché perché il mercato cambia cambia anche nel giro di un anno due anni quindi alcuni indicatori se poi li utilizzi devi andarli a modificare in base alla volatilità che c'è di mercato perché non funzionano con il machine learning che si adattano alle condizioni di mercato gli indicatori quindi a volte li devi modificare ed è per questo che nel corso che forniamo vengono forniti anche gli aggiornamenti perché questa è una cosa fondamentale io vedo in giro dei corsi che venivano venduti cinque anni fa ma come fai a vendere un corso che hai registrato cinque anni fa che il mercato è completamente diverso per questo bisogna formarsi bene ma soprattutto rimanere aggiornati che questa è la differenza se si rimane lì con le strategie di qualche anno fa diciamo che magari fatte anche a mercati chiusi diciamo che la frittata è fatta sì assolutamente e ci tengo anche ad aggiungere che che un libro che molti consigliano è questo Murphy famoso di analisi tecnica se vuoi lo puoi leggere io non è che sono un contrario al Murphy nel senso è un libraccio da non so quanto 600 pagine che ti va a spiegare triangoli rettangoli mille indicatori resistenze supporti va bene cioè nel senso io le so queste cose perché nel mio percorso ho fatto di anni sui mercati queste cose le ho imparate quindi anch'io ti so capire che qua c'è una forte resistenza che qua c'è un triangolo e quindi semplicemente cioè non è che queste cose non le sappiamo io e Marco non è che ci vuole una scienza capire che qua c'è un triangolo e se lo spacca il mercato viene giù o viene su però o viene su una parte o viene giù dall'altra però non è questo che ti fa fare trading perché non funziona soprattutto non funziona negli intraveri e non funziona alla lunga nel lungo periodo quindi sicuramente ti può servire anche un libro del genere ma non è fondamentale cioè ti può servire per conoscenza personale però non è fondamentale per poi andare a operare nei mercati ecco si è abbaiato pure il cane quando sente i marfi dice ma appena le sente parlare di analisi tecnica classica ecco di nuovo analisi tecnica appena dici quella parolina magica lì comunque niente euro-dollaro dai ci riprovi vediamo se stasera chiude un po' più alto sopra 1,19 ci sta riprovando anche il Nasdaq praticamente è tornato da dove è partito fatto 50% di questa candela questa candela qui prima adesso vediamo come si comporta insomma va bene dai sono le tre ragazzi noi adesso andiamo a seguire le aperture nei mercati americani che non per forza andremo a tradare a meno che non ci sarà veramente un calcio di rigore da fare perché anche qua dobbiamo dire che non si trada sempre perché bisogna per forza fare un trade se non c'è l'occasione non si sta alla finestra e si guarda poi tanto un mercato di occasioni ce ne dà però piuttosto che fare operatività a caso non ne facciamo quindi a volte la gente si meraviglia quando diciamo fai un trade e stacca non tradare non tradare però è così cioè non puoi sempre tradare quando non ce l'hai l'occasione ok quindi in questo momento non ad esempio qui una persona normale dice ok è sceso tanto vado short oppure è sceso tanto hai risalito il mercato in massima in storage vado short ma è una tua idea questa non basta cioè poi magari arriva short e ci hai pure azzeccato e lì che cosa cosa succede che vai in overconfidence con te stesso perché dici cavolo ho preso uno short e sono il numero uno ho predetto il mercato voglio avere sfera di cristallo ho predetto il mercato vai short e poi pensi di essere invincibile infallibile arriva il trade successivo lo sbagli poi inizi ad andare sotto col tuo portafoglio col tuo capitale aumenti le size aumenti la leva il mercato ti va in faccia e hai fumato non solo il gain di prima ma anche tutti i soldi che hai messo vero vero dai guai mi fa un bellissimo messaggio di Tommy Ross più che libro meglio corso G davvero valido difficile da spiegare mi imparo un sacco di cose oltre modo giusto di operare io sono un corsista ma prima ho provato il fai da te allora Ross ci chiede una cosa che ci chiedono ormai eccola qua quando sente le cavolate vado scherzando Ross dai non voglio promuovere corsi ok promuovete corsi ma i vostri risultati si possono vedere allora noi ogni tanto li pubblichiamo i nostri risultati non li pubblichiamo spesso nel senso che se vai anche le nostre chat li trovi più che altro che non ha senso che io ti spiega ti faccio vedere continuamente solo i miei risultati io credo che sia importante che vedi i risultati dei nostri grossisti quindi di chi ha seguito il nostro corso perché tu non hai subito le nostre competenze non è che vai a acquisire subito le nostre competenze noi te le insegniamo ti diamo il supporto per farlo però poi tu parti sicuramente da un livello più basso rispetto al nostro attuale quindi è meglio che ti vai a confrontare e vedere i risultati di persone che hanno iniziato magari al tuo stesso livello che hanno iniziato con noi al tuo stesso livello e poi che cosa hanno ottenuto quindi ci sono molte persone che lo dico proprio sinceramente in maniera completamente trasparente che stanno ancora imparando quindi che non sono ancora in guadagno ma ce ne sono moltissime altre che invece stanno guadagnando vanno con le proprie gambe quindi poi noi abbiamo anche la sezione cripto di cui non ci occupiamo personalmente noi si occupa un nostro team la sezione investimenti cioè tra la gamma di circa 500 corsistiche che abbiamo io direi che circa più della metà sono in guadagno voglio dire 60-70% 60% sta guadagnando l'altro 40% sta imparando poi c'è sempre una parte di persone che comprano e mollano però bisogna anche capire che il mondo è fatto di chi molla e chi va avanti generalmente chi va avanti poi ha successo nella vita quindi e nella vita nell'ambito in cui vuole andare avanti cioè se tu molli per il trading perché dopo che due mesi che perdi non ti va più dai la colpa al mercato dai la colpa a questo a quell'altro nel trading sei un perdente nella vita può essere troppo vincente in tutti gli altri settori ma nel trading sono perdenti perché non hai perseveranza e non hai magari capito come si fa a imparare questo tipo di attività ovvero si impara con lo studio e con la pratica a mercati aperti e soprattutto con un supporto costante di persone che lo fanno e ti aiutano a fare tutti i giorni ed è quello che facciamo noi puoi anche vedere qualche recensione qualche video ma io ti invito semplicemente a fare un giro nelle nostre chat di telegram gratuite dove puoi entrare e chiedere benissimo i risultati di chi vuoi e noi in maniera non possiamo farti vedere i nostri però poi i corsisti non possiamo costringerli però sicuramente qualcuno avrà anche voglia di farti vedere i suoi risultati i risultati non si tende poi solo in maniera monetaria ma anche in termini monetari ma anche perché ovviamente magari una persona che è dentro con noi in due mesi nel nostro percorso non è che diventate ricca non è che stanno già facendo 2-3 mila euro con il mese non stanno facendo al mese con il trading non stanno facendo 10 mila euro al mese magari ne fanno 300 100 200 300 però bisogna partire per step questo è il primo obiettivo l'obiettivo inizia a fare 2-300 euro al mese secondo obiettivo 4-500 poi se vuoi aumentare aumenti se no se ritrovi bene con questo tipo di obiettivo continui e vai avanti per questa strada qua che a volte è anche la migliore perché comunque maggior parte delle persone usa il trading come una seconda entrata però va studiato va studiato e ci vuole tempo bisogna consolidare i risultati per mesi esatto perché se no non si va da nessuna parte assolutamente se si fanno troppi alti e bassi lì diventa un problema poi all'inizio va bene farli però dopo un po' inizia ad essere costante esatto spero di averti risposto Ross in ogni caso puoi andare a vedere sul Trustpilot sul nostro sito qualche recensione qualche testimonianza ma se non credi neanche alle testimonianze o a Trustpilot semplicemente vieni in chat e chiedi c'è qualche corsista qui qualcuno magari ti risponde e insomma poi ho fatto un giro su YouTube vedi le analisi che facevamo sei mesi fa basta guardare quelle in giro non ce n'è poca di analisi non ne fa nessuno basta che guardi quelli vedi cosa dicevamo sei mesi fa guarda dove sono i mercati e uno più uno a casa mia fa due trovi anche qualche trovate anche qualche nostra intervista io mi ricordo le fonti tv era l'inizio anno anche sì soprattutto dove continuavamo a dire mercati sì e mi ricordo anche che era questa me la ricordo perché veramente mi hanno scritto in tanti quel giorno lì era febbraio forse eccolo qua 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 mi ricordo veramente come se fosse ieri in questi giorni qui io l'ho detto il mercato sì traccerà però probabilmente questo continuerà a essere lungo ho ricevuto una marea di insulti guru di qua di là ragazzi io ho letto la mia opinione non è che la mia opinione legge cioè la mia opinione era che i mercati potevano continuare a fare massimi storici e andare a rialzo la trovate l'intervista magari ve la pubblico anche la trovate su anche di marco comunque la trovate su youtube o proprio sul sito delle fonti tv quindi o su youtube nostro o sul loro youtube era febbraio quindi andate a controllare questa era la mia opinione mercato secondo me doveva essere un mercato ancora rialzista per vari motivi sia macroeconomici che anche a livello grafico e di conseguenza adesso ci abbiamo preso infatti molte persone che una persona in particolare che continua a criticarmi adesso è una sacrosista infatti non so se sei ancora qui ma se ci sta seguendo da saluto e non faccio nomi chiaramente però se vuole uscire allo scoperto se ci segue mi faccio un saluto molti altri sono finiti perché hanno hanno operato poi secondo i loro canoni purtroppo 70-80% dei trader perdi il sito rosso lo vedi in basso a sinistra www.ogtrading.it oppure ci puoi scrivere su whatsapp il numero in basso a destra che è 349 656009 656009 un'altra domanda che ci fanno spesso oggi mi sento di essere trasparente anche se tra un po' dobbiamo andare ma tu guadagni più col trading o con la vendita di corsi visto che questo è un tema che molti quando lo scrivono cercano di svincolarsi di sgusciare via molti guru formatori non dicono che guadagni più dal trading ragazzi io lo dico sinceramente adesso noi abbiamo una società anche abbastanza grossa con i dipendenti e ci sono dei mesi in cui guadagno di più con il trading e alcuni mesi guadagno di più con la vendita dei corsi nel complesso posso dire che guadagno abbastanza bene lo sento tanto in Italia c'è sempre questo trabù di parlare di soldi no Marco poi è giusto perché lo stato ti perseguita quindi diciamo che è un po' una nostra mentalità però vabbè però noi che viviamo all'estero da un po' di anni ormai da un anno abbiamo capito ormai per avere i soldi non deve essere un tabù una cosa che fa parte della nostra vita quindi io dico chiaramente ci sono dei mesi in cui sono sincero con i corsi mi va bene guadagno più dei corsi e non vuol dire che non guadagno dal trading che perdo ma il mese che si fanno zero corsi non ci strappiamo i capelli possiamo permetterci lo stesso di vivere dove viviamo un mese estivi che magari le persone sono in vacanza e comunque magari non si interessano al trading ci sono meno vendite di corsi meno vendite di servizi meno vendite di abbonamenti magari io in quel mese faccio di più con il trading può essere bisogna guardare non tanto mese per mese ma nel completo a parte che le persone non devono fare i conti in tasca di altri prima cosa piuttosto guardate come dicevo sempre a chi guadagna chi ha seguito il nostro corso e guadagna noi non facciamo testo perché noi lo insegniamo quindi non facciamo testo in parte sì in parte comunque no però comunque noi siamo imprenditori in questo momento abbiamo costruito un'attività quindi è normale che anche la vendita di corsi faccia comunque sia il nostro punto focale dell'impresa dell'attività imprenditoriale però se i corsi se funzionano insieme a una tecnica che funziona che noi utilizziamo e ci fa comunque guadagnare perché non non venderlo cioè bello il messaggio di Piercarlo 997 psicologico eh no non lo alziamo Piercarlo noi insomma siamo siamo umili dai non facciamo questi prezzi anche se in realtà vedendo un po' la nostra concorrenza diciamo ma siamo stupidi a venderlo con tutto quello che diamo con il supporto a quel prezzo o potremmo fare come chi li vende a 2500 euro 3000 euro senza supporto e nulla perché poi ragazzi il nostro supporto vi assicuriamo ve lo vedete ci dà un bel po' di lavoro da fare ma noi lo facciamo perché ci piace è la nostra passione quindi avere un gruppo di persone ma non è tanto passione perché sei presente sì sei presente quella è la differenza ma perché lo faccio io questa cosa qua del vendere i corsi non potrei starmene buono buono a casa e fare altro uno vabbè perché ovviamente mi piace quello che ho creato mi piace quindi il fine di lucro ovviamente c'è sempre però insegnare è una missione secondo me è una missione cioè è meglio avere un gruppo di persone che seguono tutte il tuo stesso metodo operativo ad esempio sui mercati e con cui tu puoi andare a confrontarti fare trading insieme perché poi il trading è una passione quindi cosa che mi piace i mercati finanziari io ho studiato mi sono lavorato in finanza non per nulla una cosa che mi piace già da quando facevamo il liceo anche con Marco non conoscevo ancora Marco al liceo però sempre studiato questa materia è sempre appassionato quindi è anche bello avere un gruppo poi di persone che ti seguono con cui confrontarsi e aiutarle magari a fare qualcosa di buono con i propri soldi e poi si migliora anche perché si è più consapevoli anche di nel nostro trading personale perché abbiamo un po' il peso della community non siamo più magari le teste calde come eravamo 7-8 anni fa cioè la formazione che dai alle persone ti fa capire anche tante altre cose secondo me quella è un bel aspetto assolutamente quindi se c'è anche il supporto come sì e anche tutti gli aperitivi che ci hanno invitato in giro per l'Italia a fare quindi non vi ho neanche fatto uno perché non ci siamo diciamo la verità lo facciamo solo per gli aperitivi facciamo solo per gli aperitivi adesso lo faccio fare alla social media manager gli scrivo la frase motivazionale di Marco lo faccio solo per gli aperitivi divento coach solo per gli aperitivi no dai scherziamo sì come dici tu il corso è solamente una punta dell'iceberg poi la cosa adesso qua sdoganiamo un'altra cosa cioè non parliamo di nostro corso non parliamo proprio di imparare a fare trading potete anche imparare a fare trading su youtube ma se non siete supportati da qualcuno se non avete un mentore qualcuno che vi dice cosa fare cosa non fare non andate lontano non andate da nessuna parte perché non sapete che lo rifate quando li fate dove li fate non sapete come migliorare e quindi anche chi fa sbagli sui mercati va bene fare sbagli anche se hai fatto un corso pur che ci sia qualcuno che questi sbagli te li corregga questi errori te li corregga quindi anche se dovete andare a imparare a fare trading da qualcuno che non sia OG non ci interessa nel senso ognuno sceglie poi a pelle chi sta più simpatico di chi si fila di più ci sono tanti fattori se dovete andare a scegliere ma questo vale qualsiasi cosa nella vita quindi un corso di trading piuttosto che un corso di educazione finanziaria piuttosto che un corso di marketing volete imparare anche l'università ok chi è più giovane vuole fare l'università se non avete un supporto dietro quindi qualcuno che vi aiuta dopo che avete preso il libro e studiato quindi se non c'è l'insegnante che magari dopo la lezione si ferma a rispondere alle domande un attimo non andate da nessuna parte ci ha fatto un'enorme fatica e poi ripetete la lezione fate l'esame magari lo fate bene non avete imparato la mazza lo fate male non avete imparato la mazza lo stesso perché se non c'è qualcuno che vi corregge poi l'esame non avete imparato niente dai stacchiamo Marco che adesso ci sono le aperture si per Carlo se vuoi farci un bonifico per raggiungere quella cifra a 1000 euro sai qual è il nostro IBAN dai che sto scherzando c'è sempre piacere vedervi qua tutti spero che sia stata educativa un po' questa questa diretta per aver visto i payrolls insieme a noi faccio sempre piacere fare un un caffè con voi però adesso aprono i mercati quindi ragazzi noi dobbiamo andare non a vendere corsi ma a cercare di fare la cooperazione quindi un saluto ciao ragazzi ciao a tutti ciao